Perché, perché non sono morto? In gioventù mi è capitato di tutto, e non sono morto. Destino. Vuol dire che la mia sorte, la mia parte, era questa. Nessuno sa come mi sento. Non sanno quello che provo. Tutti quelli che siedono su quella sedia me la fanno scontare. Mi hanno intralciato in tutti i modi, ma io non ho mollato. E se Allah mi darà vita, non mollerò. Grazie. 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 Grazie.